Notizie di Formula 1, la maledizione di Verstappen a Singapore. Paura eh? Ci stiamo caccando sotto! Il pilota orlandese sembra immune a tutto, anche alle maledizioni, e dopo aver spezzato quella di Monza, Verstappen arriva a Singapore con la prossima impresa da compiere qui a Marina Bay. Max Verstappen non ha mai vinto qui a Singapore, il 2023 sembra quanto mai l'occasiona adatta per colmare questa racuna. Il pilota orlandese un anno fa compromise il weekend per un pasticcio in Q3, da parte del muretto Rebel a livello di calcolo della benzina. E non riuscì a risollevare la corsa partendo poi dalla quarta fila. Sergio Perez fu secondo in qualifica e prese la testa della corsa in partenza, per poi non lasciarla mai più fino alla bandiera a scacchi. E voglio ricordare che qui a Singapore debutterà sia la nuova direttiva TD-018 di cui ho già parlato in un mio video, che ha come obiettivo quello di tappare un po' le ali a quelle vetture che utilizzano le ali flessibili, scusate il gioco di parole, come può essere per esempio la Red Bull. E qui debutterà anche un nuovo layout della pista. Che siano questi due ostacoli che faranno abbassare un pochettino la cresta alla Red Bull e a Max Verstappen? Fammi sapere la tua sotto nei commenti.